Sterilizzazioni ferme, canili senza più neanche un posto libero, avvelenamenti continui di cani, l'ultimo quello denunciato da Totò Mugnai a nome del WWF, e soprattutto un'ordinanza da modificare. E questo è il quadro di un'emergenza, quella riguardante il randaggismo sciacca, tutt'altro che terminata la denuncia dell'Associazione Nazionale Tutela degli Animali. C'è un immobilismo, un mancato intervento da parte anche degli uffici competenti, perché non è che i cani ci vanno da soli, cioè devono essere presi, accalappiati e fatti entrare all'interno dei canili. Canili che probabilmente però sono saturi? Saranno saturi, ma purtroppo le cucciolate abbandonate ci sono state e continuano a esserci. Sono stati rimessi sul territorio, ma giustamente l'ufficio randaggismo dice appena ne ho rimessi fuori 15-18 e altrettanti ne sono entrati di cuccioli. I canili non ce la fanno? Non ce la fanno, no, ma hanno ragione, ma se non si controlla il territorio come si fa a fermare questo rubinetto di abbandono di cucciolate? Insomma rispetto al febbraio dell'anno scorso la situazione pare di capire che non si è migliorata. Io lascio decidere al cittadino che cammina, che usufrisce dei nostri spazi, alla SITAS per esempio, oppure alla Perriera, oppure anche all'umuciare, perché ora c'è l'estate turistica, verranno i turisti e vedranno questo spettacolo. Questa non è colpa di chi li accudisce, ma bensì di altro, perché come si fa ad abbandonare comunque dei cani senza acqua e senza cibo? Qualche giorno fa c'è stato anche un avvelenamento. Ora non sono tutti insieme, li vanno avvelenando a due a due, ci sono quelli poi che non vengono neanche evidenziati, non vengono neanche denunciati. Questo era fra l'altro anche un cane del comune. Voi temete che basta spegnere un po' il riflettore o abbassarne l'intensità che poi si ritorna al problema di sempre con l'aggravante che non si affronta più? Basta non parlarne, basta non parlarne, cale il silenzio. Il problema sembra risolto, il problema rimane del singolo cittadino che subisce un disagio o nostro comunque che dobbiamo comunque sopperire. Nel frattempo si apprende che il Ministero dell'Interno ha stanziato un fondo da un milione di euro per la cura dei randaggi. I comuni dovrebbero avere dovuto presentare un progetto e quindi poter ricevere soldi per supportare la Polizia Municipale a controllare il territorio. Un problema che è ancora in alto mare dunque, secondo la denuncia della Presidente dell'ANTA, la quale spiega che l'ordinanza del 2010 sulle segnalazioni di cucciolate non funziona e va cambiata. L'ordinanza in vigore stabilisce che chi segnala le cucciolate, se i canili sono saturi, se li dovrebbe portare a casa. Se sono in difficoltà io non sono tenuta a prenderli perché io invece sono tenuta a soccorrerli, quindi nessuno mi può obbligare a prendermi dei cuccioli. Se non sono in difficoltà io li devo lasciare lì e segnalare ai vigili urbani. Volontari che spesso sostengono personalmente le spese per non fare morire i cani randaggi sul territorio, per sostenere queste iniziative l'ANTA è stata ammessa al 5 per mille. Ho ritenuto necessario avviare questa procedura perché le risorse spese per sopperire alle carenze del Comune, dell'amministrazione, sono tante, veramente tante. E noi abbiamo fatto sterilizzare i cani, abbiamo soccorso mantenuto in custodia cuccioli, fatto vaccinare e fatto adottare i cuccioli. Ricorrendo al vostro patrimonio privato? Assolutamente sì. Questo non era più possibile, non è più possibile perché io tuttora mantengo due cani del Comune a mia spesa. Quindi non è più possibile. Io vorrei che la gente sapesse che per noi viene il cittadino. L'impronta che io voglio dare infatti è soprattutto informare il cittadino di quello che accade e che il cane non può essere solo un fastidio. Però io vorrei che capissero che i progetti su cui noi investiamo comportano delle spese che non possono essere più sulle nostre spalle. Per contrastare questo fenomeno per andagismo sono importanti le sterilizzazioni, come quanto anche il controllo del territorio. Vanno controllati i cani padronali, cioè i padroni che detentori di cani non microcippati e non sterilizzati. Dura la critica di Anna Maria Friscia ai proprietari dei cani che non sterilizzano, li lasciano riprodurre. Questi non sono animalisti, sono persone che amano avere l'animale d'affezione a casa e nient'altro.